Io e te abbiamo giocato tante belle partite contro, ricordo bene la finale a Marsiglia quando ti ho battuto in due set, spero che tu non l'abbia dimenticata. Io servivo più veloce di te anche se penso che tu avresti potuto colpire molto più forte, ovviamente servivamo in modo differente ma devo ammettere che tra i due il mio servizio era meglio del tuo nonostante tu avessi un ranking migliore.